Ryder Cup 17. La Ryder Cup viene giocata sempre, ogni due anni, in annate dispari. Ci sono state però delle eccezioni. C'è stata una lunga pausa di ben dieci anni durante la seconda guerra mondiale e ci sono state delle annate in cui è stata diciamo slittata avanti di un anno, quindi per qualche anno è stata giocata in anni pari. Questo è successo dopo l'attentato alle torri gemelle. Per poi ritornare in anni dispari dopo la pandemia di Covid-19. E tu, quante edizioni hai seguito? Sei riuscita a seguirle tutte tutte o hai dovuto saltare qualche anno? Io per esempio mi ricordo che quella del 1927 non l'ho vista, però va da memoria.